Durante la pandemia abbiamo avuto un calo netto ovviamente di questo settore dovuto ovviamente alla paura di qualsiasi tipo di attività per cui avevamo tutti paura addirittura di uscire di casa figuriamoci di fare lavori però c'è stata proprio una contrazione industriale, economica di tutti i vari settori legati al mondo delle costruzioni e delle ristrutturazioni che è da sempre uno dei primi settori a livello economico in questo momento la domanda ha superato di gran lunga l'offerta nazionale in quanto ovviamente ad una contrazione così forte del 2020 c'è stata tra fine 2020 e inizio 2021 e la stiamo vivendo proprio ora una accelerazione improvvisa e come dico io troppi cavalli su una macchina piccola che ha creato sicuramente una ventata di ottimismo ma certamente problemi in quanto c'è mancanza di mano d'opera specializzata e le materie prime ovviamente sono carenti e molti produttori ovviamente hanno approfittato anche un po' di questa cosa perché all'aumento dei costi produttivi internazionali c'è stata una speculazione poi fatta da distributori e fornitori che hanno ulteriormente arrotondato questi costi creando non pochi problemi alle ditte come quelle nostre ovviamente il mercato è in ripresa netta quello delle costruzioni e quello delle ristrutturazioni che benché siano settori simili hanno due canali un po' divisi si pensa che ci sia un incremento dal 10 al 15% rispetto all'andamento standard io penso che questo abbia ancora una durata di almeno un paio d'anni piene e poi non so anche perché con l'avvento dei famosi super bonus di cui si parla costantemente ci sia stato sicuramente un incremento delle attività lavorative legate alle ristrutturazioni atti a migliorare l'efficienza energetica che è un problema ormai che viviamo da tanti anni ma soprattutto anche la qualità abitativa per cui con i super bonus, con la volontà e la speranza di uscire da questa pandemia sicuramente per due o tre anni avremo questa ventata di aumenti che ci aiuteranno a ridare un po' di forza economica a tutto lo Stato Grazie a tutti